Fu la partita inaugurale del mini torneo a distanza di 42 giorni il Delfino Flacco Porto e l'Aquila tornano ad affrontarsi per la prima giornata di ritorno di questo torneo di eccellenza una nota di cronaca, primo scontro dei rosso-blu del capoluogo al San Marco di Pescara venendo al match Bonati si affida le 4-2-3-1 con Blasiori, Gobbo Falco alle spalle di Petre mentre Bolzan che dovrà fare a meno dall'ottavo minuto come vedremo nelle immagini di Bisegna out per un problemino fisico davanti schiera il tridente Pellecchia di Paolo Miciche pronti e via, grande autorevolezza dell'Aquila giropalla che libera prima di Paolo al terzo che di testa non trova la porta, porta trovata e ovviamente anche cercata da Miciche che al diciassettesimo con un chirurgico destro batte calore e fa 1-0 primo tempo poco spettacolare, tanto possesso ma anche tanta concretezza al ventisettesimo una stella scende dal cielo Pellecchia al volo con il mancino disegna un arcobaleno che, euro-goal palla sotto la traversa per il 0-2 il Delfino reagisce, Tine Mori rompe sulla destra, entra in aria e va giù dopo un contatto con Moscianese per rompianesi della sezione di Modena e penalty mentre dal dischetto si presenta Bomber Petre che spiazza dal masso e riapre i giochi nella ripresa è tutt'altro Delfino all'undicesimo Petre ci prova dagli undici metri palla out stesso esito per il mancino di Marzucco dal limite mentre nel mezzo però contatto dubbio tra Falco e Altares per il direttore di gara si può proseguire tra le proteste portuali al ventisettesimo Miciche libera il neoentrato di Federico che da due passi trova la gran risposta di calore il Delfino spinge notevolmente ma non riesce a graffiare Marzucco da calcio piazzato a due ottime possibilità prima la barriera poi sfiora però la traversa termina dunque così l'Aquila riesce sia a creare che a soffrire tre punti fondamentali per la rincorsa al Chiedi Delfino che bella prestazione